L'associazione Insieme per Piazzo di Arlebino ha organizzato per domenica 30 settembre una passeggiata nel parco di Piazzo e Trevasco. Per conoscere un po' nei dettagli questa passeggiata abbiamo con noi un membro del consiglio direttivo dell'associazione, Ugo Colombo, che è un po' anche, possiamo dire, una figura storica dell'associazione. Bene, allora preciso un attimo un po' come è organizzata il programma di questa iniziativa. Innanzitutto richiamo un attimo velocemente la continuità della collaborazione dell'associazione con il gruppo CAI di Albino e il gruppo di riqualificazione di Piazzo che unitamente al comune di Albino perché questa iniziativa si inquadra dentro tutte le iniziative della cosiddette Terre di Albino organizzate appunto dall'amministrazione comunale, cosiddette Terre di Albino, giornate della storia, dell'arte e della scienza che iniziano giusto qui a fine settembre e proseguono per tutto ottobre. Questa escursione o passeggiata come l'abbiamo chiamata, quest'anno ha un carattere non solo paesaggistico, ambientale, naturalistico, ma in buona parte culturale. Infatti è stata iscritta dal comune in occasione della giornata del patrimonio culturale europeo. Italia, tesoro di cultura. Insieme ad altre iniziative del comune ci permetterà di far conoscere a persone che non hanno mai avuto la possibilità di visitare soprattutto le tre chiese che si trovano sul territorio del parco locale di interesse sovracomunale di Piazzo e Trevasco. Si comincerà quindi la giornata alle ore 9 di domenica con ritrovo e visita guidata al santuario della concezione di Albino, cosiddetto della Madonna del Lupo. Poi la passeggiata attraverso il sentiero principale di Piazzo con la guida di un naturalista e di un paesaggista che sono i nostri esperti e fino alla chiesa della Santissima Trinità di Trevasco. Anche lì una breve presentazione con una guida di Nembro e poi si proseguirà per San Vito per chi vuole e durerà fino al primo pomeriggio. Ci si può fermare a mangiare a sacco in un posto coperto. Facciamo presente che anche Nembro ha organizzato un'escursione. Il percorso chiaramente sarà diverso ma ci raggiungeranno alla Trinità. Faccio presente che in caso di pioggia però dovremo annullare. Grazie.